ecco però ciao benvenuti in questo nuovo video io sono mira e nemo e oggi faremo un video un po speciale diverso dal solito sarà un video in collaborazione con un brand che mi ha tanto gentilmente contattato e quindi adesso io metto giù nemo e vi parlo di questo brand il brand in questione è un brand nuovo è un brand di cui prima di questa collaborazione personalmente non avevo mai sentito parlare e il nome del brand smilodox è un nome molto buffo e che in realtà mi fa piuttosto mi fa salire lo trovo molto carino molto buffo il brand tedesco loro spediscono direttamente dalla germania e si occupano di sport a 360 gradi quindi producono soprattutto abbigliamento sportivo ma anche vari accessori eccetera tutto molto sito molto completo la campagna per la quale loro mi hanno contattato si chiama ciao italia perché hanno aperto il loro mercato anche all'italia e quindi niente io spero di contribuire a questa cosa e cosa mi hanno mandato mi hanno chiesto di scegliere tre tre outfit insomma tre set dovevo fare appunto un video un video su queste cose sportive però a per non fare una cosa molto banale e mostrarvi solo le cose mi sono come sempre ingegnata ho cercato un po online mi sono un po informata e ho scoperto di questo stile che io non conoscevo prima che si chiama altro legger in inglese penso sia un'unione di parole tra athlete che tipo non so sportivo e un atleta e leisure e quindi questo unione di due parole hanno creato questo nuovo stile che si chiama a pleasure e praticamente non è altro che mixare capi puramente sportivi quindi reggisogni sportivi tutte leggins sportivi pantaloni sportivi con altri capi che abbiamo nell'armadio quindi io ho cercato di giocare su questo mi sono divertita veramente come una matta a creare tante cose e adesso vedete un cambio di luce è uscito un sole improvviso ma meglio così e quindi niente mi sono divertita veramente tanto mi sono resa conto che queste cose sono portabilissime e si tratterà di uno stile quello che vedete soprattutto tanto sulle modelle insomma vip del momento americane spero tanto che vi piaccia fatemi sapere se conoscevate questo stile se conoscete questo brand qua sotto nei commenti e soprattutto se questo stile vi piacerà insomma allora parlato di smiradocs loro mi hanno mandato appunto come prima cosa questo set questo set di colore verde si tratta di questo bermudino direi molto comodo ovviamente per fare sport ma anche per fare altro questo è il loro logo il pantaloncino in questione è estremamente comodo vedete quanto si allarga e si avvina a questo reggiseno tutte le cose le potrete comprare in modo separato non dovrete per forza comprare i set ma ci sono anche i set i prezzi secondo me sono super abbordabili nel senso che la qualità è ottima per esempio qui parliamo di 80 per cento nylon che sappiamo essere un ottimo materiale per lo sport e 20 per cento di spandex infatti si vede perché le cose si allargano tantissimo e quindi prezzi secondo me sono molto abbordabili e poi io ovviamente vi lascio il codice sconto qua sotto per qualsiasi codice eccetera trovate tutto nell'info box quindi avvinato a questo reggiseno sempre di colore verde sempre con il logo ed è molto bello perché dietro a questa trasparenza insomma particolare spero che si veda a questa trasparenza particolare e le bretelline ok allora come va a essere questo brand super comodo in realtà se siete indecise tra due taglie prendete la taglia in meno questo questo è il primo set non vedo l'ora di farvi vedere come l'ho abbinato tra poco il secondo set E' questo qui se questo leggins come dico io spesso lo faccio molto imbattuta anche nella mia vita privata no vi modella anche anche la mamma cioè di modella la vita praticamente perché è estremamente modellante senza stringere è un leggins nero abbastanza basico ma appunto il materiale fa sì che sia particolare qui abbiamo di nuovo il logo e ovviamente nero quindi non si capisce bene com'è ma a varie con le goffrature qui e è super modellante veramente lo vedrete anche dal video è modellante senza ovviamente essere senza stringere o senza essere scomodo mi ha fatto una vita molto bella a volte bene i fianchi insomma mi è piaciuto veramente tantissimo non è per niente trasparente quindi non per forza non lo potete usare come pantalone perché questo effettivamente non è un leggins è un pantalone sportivo che veramente è avvolgente anche sul lato b mi fa un bel lato b molto molto buono e io l'ho scelto abbinato a questo reggiseno nero reggiseno anche qui è sempre il classico reggiseno sportivo coppia rimovibile dietro abbiamo il logo del brand non si vede ok il logo del brand a di questi due ho preso la m ho preso la m la s sicuramente vendrebbe comunque bene ma forse sarebbe leggermente troppo stretta invece questo me lo sento proprio comodissimo avvolge bene modella bene super super questo questo cosetto Grazie a tutti. 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 Su tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.